Ciao a tutti, oggi vi presento Level 10, un gioco cooperativo di studio supernova da 1 a 5 giocatori della durata di 20 minuti consigliato dagli 8 anni in su. È un gioco cooperativo dove dovrete combattere tutti quanti insieme per superare tutti i livelli in ogni mondo. All'interno della scatola troverete 3 carte pausa, 40 carte livello suddivise per mondi, infatti vedrete i colori diversi che corrispondono a mondi diversi, e le istruzioni di gioco. Ma andiamo a vedere come preparare una partita. Per iniziare una partita disponete tutte le carte reset, cioè gli zero dei vari mondi, in questo modo, in maniera tale da avere due carte di reset per ogni mondo suddivise per colore. A questo punto dovrete decidere a che livello di difficoltà vorrete giocare. In base al livello di difficoltà dovrete mettere le pause, cioè con nessuna pausa sarete livello master, invece per iniziare vi consiglio di iniziare con tre pause. Andate a metterle nel mazzo e poi andate a mescolare bene il mazzo e consegnare le carte a ogni giocatore. Le carte saranno 10 se giocate in solitaria, 7 in due giocatori, 6 in 3, 5 in 4 e 4 per 5 giocatori. A questo punto una volta date le carte sarete pronti a iniziare una partita. Prima di iniziare a giocare una partita, in questo caso a due giocatori, infatti ho 7 carte, partiamo da spiegare quali sono le regole di comunicazione. Non si potrà mai dire un numero di una carta qui in mano, cioè non posso dire ho il 3 giallo in mano, ma potrò dire che ho due carte gialle in mano. A questo punto potrò anche dire dove vorrei giocare e dove non vorrei giocare e soprattutto potrò dire dove vorrei giocare la carta reset. Questa è la carta reset, adesso vedremo l'importanza. Si gioca a turni, quindi inizierò magari io, dopodiché toccherà il mio compagno di gioco perché vi ricordo che è un cooperativo e si potrà o giocare una carta, per giocare una carta si intende una carta normale o una carta pausa, oppure andare a giocare una carta reset. Se io gioco una carta, vedrete mi trovo con 6 carte in mano, dovrò ripescare. A questo punto toccherà il mio compagno di squadra che giocherà una carta anche lui e poi andrà a pescare. Se gioco una carta pausa, questa avrà lo stesso valore della carta che la precede, quindi è come se fosse una carta reset in questo caso. In ogni colonna, come vedete, dovrà esserci per forza una carta reset, solo una però, non più di una. Quindi io con queste due colonne dovrò decidere in quale giocare la carta reset. Vedete le mie carte in mano? Io proporrò all'altro giocatore, io vorrei giocarla qua la carta reset. Avendo questa carta qua che mi è incomoda giocarla, io giocherò questa carta qua e l'altro giocatore sarà obbligato, perché in questa colonna non c'è un reset, a giocare la carta reset. Ricordatevi sempre di pescare per riportare le carte al numero originario. Non dovrete pescare se invece avete giocato la carta reset. Nel caso in cui giocate la carta reset però avrete un altro vantaggio. Potrete scegliere 0, 1 o 2 carte dalla vostra mano e andarle a scambiare, cioè le metto nell'ordine che preferisco sul fondo del mazzo e vado a pescarne 2 dalla cima del mazzo. Questo vale solo per 0, 1 o 2 carte, quindi potete anche non farlo o potete arrivare fino a un massimo di 2. Ricordatevi sempre di tornare con la vostra mano al numero iniziale. Una volta completata la colonna si andrà avanti con le regole di piazzamento molto semplici, cioè per ogni riga del vario mondo dovrò sì mantenere lo stesso colore del vario mondo, quindi non potrò giocare la carta di un altro mondo qui, ma la dovrò giocare qua. Inoltre dovrò andare a giocare carte solo maggiori delle carte giocate in precedenza. In questo caso un 1 potrò giocare carte dal 2 in poi, qua che avrò un 6 potrò giocare solo il 7 o l'8, a meno che in questo turno ci parliamo e diciamo guarda che qua c'è già un 6, andiamo a resettare questa colonna, tanto un reset è obbligatorio, scegliete voi dove andare a giocarlo. Se mandate un po' avanti nella partita, come vedete qua è stata giocata una carta pausa, quindi è come se si partisse dallo 0 dopo abbiamo giocato un 3 e successivamente un 5, sempre rispettando la regola della colonna, quindi per ogni turno dovrete prima completare la colonna. E a questo punto abbiamo sempre resettato, una volta abbia resettato qua, una qua e una qua, ed è così va avanti la partita, sempre andando avanti a giocare e poi pescare, a meno che giochiate il reset, a quel punto potete scegliere se mettere 0, 1 o 2 carte sul fondo del mazzo e sostituirle. La partita si vince quando le carte del mazzo sono finite e voi sarete riusciti a piazzare tutte le carte. Nel caso in cui ci siano delle carte pausa ancora in gioco e voi abbiate finito il mazzo, nel momento in cui io gioco una carta pausa potrò mettere al di sotto della carta pausa una carta con livello di quel mondo di un valore che non riesco a piazzare. Per esempio in questo caso qua, fossimo alla fine, io potrei mettere l'1 giallo qua sotto, solo quando il mazzo sarà finito. È un vantaggio che avrete solo alla fine, invece giocando senza pause ovviamente il gioco sarà più difficile. Se riuscirete a ultimare tutte le carte piazzandole seguendo il regolamento corretto del piazzamento carte, avrete vinto. In caso contrario si perde nel momento in cui non riesco più a piazzare una carta correttamente in gioco o non riesco a resettare correttamente le colonne, nel senso che se io alla fine mi trovo con due carte di valore 8, per esempio qui e qui. Non potrò resettarle entrambe perché abbiamo detto che si può resettare una sola colonna e avrò perso. Spero di avervi spiegato bene le regole e vi auguro buon gioco.